Alex Buttazzoni, seconda serata in maglia di leader, è dura ma siete ancora lì in cima alla classifica? Oggi era ancora più dura perché abbiamo fatto l'omnium, dunque anche con Marco abbiamo detto facciamo qualche punto per rimanere in classifica, guadagnare punti sulla generale poi abbiamo fatto anche primi nel giro lanciato, abbiamo già guadagnato una buona fetta di punti per questa seconda giornata, dunque eravamo già abbastanza a posto Marco Coledan, chi temete di più per la vittoria finale? Ma dopo stasera nell'americana, di sicuro la coppia per volate, quella formata da Bertazzo Montaner però speriamo di superare domani ancora senza tanti danni, finiamo l'omnium e poi ci dedichiamo alla 6 giorni